La Tana della Volpe La Tana della Volpe La Tana della Volpe Il titolo in giapponese è Funeo Amu, non è stato tradotto in maniera letterale perché Amu, come abbiamo visto nell'incontro, ha un doppio significato che è quello di intrecciare ma è anche quello di compilare, quindi diventava difficile renderlo in maniera fluida e in maniera affascinante, ma credo che il titolo tradotto con La Grande Traversata renda comunque l'idea del tema e soprattutto La Grande Traversata e poi il nome che all'interno del romanzo viene dato al dizionario e quindi evocativo del discorso che viene fatto all'interno. E' un testo credo molto interessante per chi studia la lingua giapponese o per chi ha a che fare molto con la lingua proprio perché ci sono delle riflessioni sulla parola, delle riflessioni su come è strutturata la propria lingua madre e sulla possibilità effettiva di comprendere questa lingua in relazione alle esperienze che si fanno. Quindi è un discorso molto filosofico anche sul rapporto tra vita quotidiana e esperienza e comunicazione, linguaggio, quindi sulla possibilità di comunicare e di essere compresi. E' anche un romanzo al cui interno ci sono diverse relazioni, ci sono diversi protagonisti, quindi è un romanzo che io definirei corale perché ci sono voci diverse a partire appunto da Araki che è il primo, ma poi ci sono anche Majime che è poi quello che viene considerato grosso modo il protagonista principale che è questo ragazzo un po' goffo a cui viene dato l'incarico di continuare la stesura del dizionario e poi si susseguono altri personaggi che ruotano tutti intorno a questa grande impresa. Sono personaggi che per certi versi sembrano un po' caricaturali e questa forse è una di quelle cose che sono immerse nel nostro incontro e anche dal libro giappone online mi sembra. Nel senso che sembrano un po' andare a incastrarsi nei canonici standard del disadattato, della bella ragazza, del professore anziano, insomma, che rimangono un po' all'interno dei canoni di quei personaggi nella letteratura giapponese, quindi forse non c'è tanta originalità nel modo in cui queste figure vengono dipinte o descritte. Tutto sommato però, a differenza per esempio di la ragazza del convenience store dove in effetti ci si trova davanti un'umanità disadattata che non ha intenzione di adattarsi e che quindi a mio avviso era sembrata ancora più caricaturale, qui io ho trovato poi un'umanità diversa, nel senso proprio che le persone che in un primo momento vengono descritte in modo molto standard, molto macchietta diciamo, in realtà poi riescono a superare la fase iniziale e quindi a interagire in modo più fluido, più sciolto con il resto dei compagni di viaggio. Quindi direi che personalmente questa estrema caratterizzazione di alcuni personaggi non mi ha turbato, benché in effetti fosse un po' scontata all'inizio. La cosa che invece a mio avviso, perlomeno per me, è rimasta un po' sotto tono è la cura delle relazioni, e mi spiego. È un romanzo in cui appunto ci sono tanti personaggi e ci sono tante relazioni tra i personaggi, soprattutto ci sono almeno tre storie d'amore importanti che vengono presentate nel corso del romanzo e che vengono anche presentate come storie d'amore importanti. Diciamo così, non si capisce da dove arrivino, nel senso che sono storie d'amore in cui all'inizio per esempio si manifesta questo enorme innamoramento per una persona, due pagine dopo la situazione è già diversa e non si capisce in che modo si sia risolta. Ed è un meccanismo che viene ripetuto in tutto il libro, è un libro che tra l'altro copre dieci anni di esperienze, dieci anni di vita, quindi è un libro in cui in realtà le evoluzioni individuali, le evoluzioni tra personaggi, quindi le relazioni interpersonali sono importanti, eppure sembra che vengano fatte passare un po' in sordina. Non ci sono grandi analisi di come le persone si innamorano, non ci sono grandi analisi del modo in cui le persone vivono insieme o imparano a stare insieme, non si capisce come i sentimenti si trasformino e questa è una cosa che a me lascia un po' di freddezza, mi fa percepire un po' di freddezza nelle relazioni, proprio perché è vero, molto spesso è importante il non detto in Giappone, quindi tutto quello che non è manifesto ha comunque una sua importanza, però il non scritto è un'altra cosa, quindi il non detto a mio avviso poteva essere fatto comprendere anche con la scrittura, ma giustamente come mi hanno fatto notare non era un romanzo d'amore, era un romanzo di amore per la lingua giapponese, quindi un romanzo che voleva indicare una storia diversa. Si trattava quindi di una concentrazione su altro, il focus era il dizionario, quindi la lingua giapponese, quindi la riuscita in un'impresa che solo pochi uomini possono, poche donne possono completare nella vita. E' anche interessante perché ogni tanto in modo molto velato, velato non è giusto, in modo molto rapido vengono buttati nel testo alcuni elementi di politica, come per esempio una discussione sul tema amore e sul fatto che solitamente nel dizionario amore viene indicato come quel sentimento che nasce tra un uomo e una donna, oppure tra un uomo e... tra un essere umano e un essere umano del sesso opposto. Ed è interessante perché qua, due o tre volte nel corso del romanzo, entra la polemica da parte di alcuni personaggi che dicono no, però l'amore in realtà può essere anche qualcosa che coinvolge due persone dello stesso sesso. Così come più avanti ci sono delle discussioni sul potere politico delle parole e sulla difficoltà che un dizionario della lingua può avere nella diffusione e quindi nella promozione del lavoro. Quindi ci sono delle riflessioni che sfociano anche un po' più sul politico, anche se di nuovo sono solo accennate, tra virgolette, quindi non vengono approfondite. Perché di nuovo è evidente, emerge come protagonista più importante, forse unico, il dizionario, quindi la stesura delle parole, quindi l'attenzione a tutto quello che comporta lavorare a un dizionario. Gli esempi, le revisioni, la carta, è molto accurato sotto questo aspetto, quindi credo molto interessante anche per chi magari della lingua giapponese non si interessa più di tanto. Di massimo a me è piaciuto molto, è un testo che mi ha incuriosito per tante cose, che mi ha portato a fare delle riflessioni interessanti sulla lingua e quindi sulla comprensione della lingua anche attraverso l'esperienza. Ci sono dei personaggi che io ho amato molto all'interno come Nishioka, che è uno dei comprimari, diciamo così, che rivela poi un aspetto molto affettuoso nei confronti del protagonista. e in realtà ho trovato molto originale la scelta di concentrare un intero romanzo proprio su qualcosa che non è decisamente glamour, cioè non stiamo parlando di Murakami, voglio dire, come tematiche. È una tematica molto più difficile, una tematica forse quasi di nicchia quella del dizionario, però raccontata in questi termini vale la pena come lettura. Allora io non mi prolungo oltre perché sono già andata un sacco veloce, ci ho parlato tantissimo e spero però che questo libro possa incuriosirvi perché la scrittura è molto bella, nel senso che è molto veloce, non ha particolari difficoltà come invece avevo incontrato in Frotte di Pesci Rossi. È una scrittura piacevole e che quindi merita l'assaggio. Prima di salutarvi le solite menate, le solite pratiche, pollice su, iscrivetevi al canale così avete idea di quello che succede nella Tana della Volpe. Vorrei parlarvi in futuro di altri due libri, uno chiaramente Murakami perché è uscito il secondo libro e quindi siamo tutti in attesa di incontrare Antonietta Pastore e di sentire che cosa ne pensa e quindi vorrei poi fare un feedback di quello che ci siamo detti. E l'altro invece è Nel cuore di Yamato di Aki Shimazaki che ho iniziato una settimana fa, ho finito ieri sera in lacrime e quindi ecco questo invece è un libro in cui le relazioni umane sono il centro del racconto e quindi vorrei condividerlo con voi. Per ora vi ringrazio e spero di vedervi presto. Buona giornata!